ciao a tutti ragazzi e oggi il signore mi ha detto di venire in cucina oggi mi vedrete cucinare con cucchiaio con questo non è vero no con questo e con questi i miei ingredienti latte e poi il mio compito che sarà mettere un po di tutto e mescolare lo schifo che verrà dopo allora questo ditemi voi se vi piace in questi video dove io cucino dove mi invento delle schifezze quindi questo dovete chiamare un video cucina con fede con la leggenda se volete seguirmi in questa cosa lasciatemi almeno 10 like e iscriviti per sostenermi sempre ok ok io non comincerei dal latte dal latte normale non so quanto mi ha detto il signore vicino ma voi non pensate male ora vi faccio vedere meglio ok è un cerchio abbastanza perfetto abbastanza perfetto ragazzi allora io so che ci abbiamo già messo il milk voglio provare a metterci arancia ok allora vi faccio vedere ok allora vi faccio vedere ok allora vi faccio vedere questo è una roba qui perché prima ho messo il latte ed è bianco dopo ho messo un bel latte l'arancio e questa roba sembra ovo, ora andiamo a metterci questo, frutti di bosco, yogurt e frutti, andiamo a servizio. Ok, ora andiamo a metterci il pezzo forte, e questo è il pezzo forte, c'è regà, c'è regà, non ci credo, ciao, ho creato questa cosa che ora andrà ad assaggiare, mamma che schifo non pensavo, no, no, io non ce lo metto, come se lo mette, lo spreco e quindi no, e riguardatevi questo, io questo video ho detto tutto, ho fatto tutto, se tu vuoi vedere di nuovo questi video, lasciami almeno 20 mi piace per la prossima Cucina Challenge, oggi voglio fare con questi, questa è una mia idea, dirmelo tu con un commento, le idee che posso fare, le ricette, scrivono delle ricette da fare, e con questo io vi mando un salutone e ci vediamo domani con un bellissimo video!